Prosegue in aula il dibattito sulla programmazione legata ai fondi europei e su come impiegarli al meglio. Il consiglio regionale ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo presentato dalla Commissione Europa per chiedere che la via francigena diventi patrimonio UNESCO. Montaione torna a scoprire le ricchezze del territorio, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre la mostra mercato del tartufo bianco. Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha premiato il Pise Beach Soccer, campione d'Italia. Il dibattito sui fondi europei È ripreso il dibattito in aula sulla comunicazione svolta lo scorso 28 settembre dal presidente della giunta regionale Eugenio Gianni relativa all'approvazione delle linee strategiche per la programmazione europea 2021-2027. Il presidente aveva comunicato che nei prossimi sette anni la Toscana varrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo sociale europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia-Marittimo. Il partito democratico è pronto a perseguire qualsiasi iniziativa sul fronte dei servizi alla famiglia, della crescita e della formazione dei giovani. Parola di Cristina Giacchi del PD, che ha spiegato come gran parte della risoluzione presentata dal proprio gruppo, si è incentrata sui servizi alle famiglie per conciliare vita domestica, di cura e professionale senza perdere di vista la cultura. Il nostro partito ha presentato una proposta di risoluzione che ha al centro tra molti temi uno che sta a cuore alla quinta commissione, alla commissione cultura e scuola, perché abbiamo rinnovato come indicazione sulle priorità di investimento dei fondi strutturali quella che è diretta ad implementare la presenza di asilinido e a migliorare la condizione di fruibilità per le famiglie, vale a dire principalmente abbattimento delle tariffe, perché si tratta di un servizio molto costoso e devo dire nel programma di mandato era presente questa indicazione, vorremmo che con la prossima un settennato venisse ripresa con vigore l'investimento nel settore dei servizi educativi. Mi appello alla giunta regionale a fare presto e bene, perché la Toscana non può più aspettare, siamo di fronte ad una sfida epocale che va colta, questo è il pensiero di Elisa Tozzi della Lega. Per quanto riguarda i fondi europei, chiaramente siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico, è chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà, ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli antilocali. Secondo Alessandro Acapecchi di Fratelli d'Italia, in una situazione così compromessa e messa a dura prova dalla pandemia, si continua a non affrontare diverse questioni di fondo, come la distruzione del tessuto economico diffuso, il dominio nelluttabile della tecnica sull'uomo, la presenza tollerata di veri e propri paradisi fiscali. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro paese e della nostra regione e ridistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Stefano Scaramelli d'Italia Viva ha parlato della riqualificazione del patrimonio ricettivo, dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile e delle donne, dell'importanza dell'efficientamento energetico, dell'utilizzo delle risorse per mettere in sicurezza il territorio, dell'economia circolare e della lotta allo spreco. Abbiamo una risoluzione importante, un momento di discussione per i prossimi sette anni, la certezza delle risorse comunitarie e dei tre programmi di sviluppo della nostra regione. È entrata nel vivo la programmazione del prossimo sette innate e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e il territorio periferico. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula, quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Per i renegalletti del Movimento 5 Stelle sarà importante non pensare solo al PIL ma anche al BES, ovvero all'indicatore di benessere. Sicuramente il PNRR costituisce una grande risorsa anche per la Regione Toscana e sarà importante, come è stato detto più volte, spenderla in tempi veloci, spenderla bene, ma soprattutto nello spenderla bene bisogna tenere ben presenti quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che vi è stata ribattezzata il BES, la cabina di regia Benessere Italia che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione che richiede l'analisi di molti altri parametri, quali per esempio quelli relativi allo stile di vita e di salute, alle condizioni ambientali. La richiesta per la francigena. La via francigena diventi patrimonio UNESCO sia nel tratto conclusivo che attraversa l'Italia, sia nell'intero percorso che parte dall'Inghilterra e attraversa anche Francia e Svizzera. Questo è il cuore della risoluzione, approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegas e illustrata da Anna Paris del PD, che ha ricordato il lavoro della Commissione Europa. La risoluzione chiama la Toscana a prendere l'iniziativa a sostegno del riconoscimento che da più parti, ormai da più di dieci anni, si cerca di ottenere. La consigliera, parlando della via francigena in Toscana, ha ricordato che il percorso interessa 39 comuni per 380 chilometri che attraversano trasversalmente la nostra regione. La via francigena ha un importante valore storico e anche una rilevanza internazionale. L'atto di indirizzo impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Ministero della Cultura affinché continui a sostenere con sempre maggiore incisività il percorso della candidatura UNESCO del tratto italiano della via francigena, di concerto con tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Lazio e con il sostegno tecnico dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Allo stesso tempo la regione dovrà attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero della Cultura affinché venga intrapreso ogni sforzo utile per arrivare ad una progettazione comune di una candidatura a patrimonio dell'umanità dell'intero percorso della via francigena sul territorio europeo e quindi a riprendere l'iniziativa nei confronti degli altri paesi interessati. L'atto di indirizzo è frutto di un lavoro condiviso dell'ufficio di Presidenza della Commissione, ovvero Francesco Agazzetti del PD, Giovanni Galli della Lega e Anna Paris del PD ed è stata curata da Anna Paris. È stato un lavoro di commissione che è partito da questa estate quando c'è stato appunto questo percorso al quale tanti dei consiglieri regionali hanno partecipato nelle varie stazioni e devo dire che è un percorso dove la regione ha investito molti soldi, più di 20 milioni ed è un percorso importante. Al tempo stesso la nostra è una regione che molto si basa per quanto riguarda l'economia sul turismo e credo che questa debba essere valorizzata. nella commissione c'è stato anche chi giustamente ha ritenuto opportuno di portare all'interno di questo documento anche di informare le regioni che sono attraversate dalla via francigena proprio per renderla patrimonio importante di tutta la nostra nazione e addirittura anche le nazioni che vengono attraversate. Perciò questo è un percorso che la commissione ha fatto in maniera congiunta con tutta la condivisione da parte di tutti perciò crediamo di aver fatto una cosa importante in virtù e in visione di quello che sarà la ripresa che speriamo sia il più presto possibile. Tartufesta a Montaione Dopo un anno di stop forzato torna Tartufesta la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici del territorio di Montaione e lo fa con un'edizione speciale domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre stendono gastronomici, artigianate, escursioni a piedi e a cavallo caratterizzano questa kermes che fa scoprire uno dei borghi più belli d'Italia guidati dall'inconfondibile aroma del tartufo bianco. Tartufesta è l'insieme di quelle che sono le caratteristiche fondamentali di Montaione uno dei borghi più belli della Toscana quindi è giusto farla qui questa conferenza stampa Montaione ha tutte le caratteristiche che ha la Toscana conosciuta nel mondo il paesaggio, la capacità di unire eventi culturali importanti il territorio che è parte anche del programma di Tartufesta e quindi ci sarà la possibilità anche di apprezzare il territorio di Montaione e la parte enogastronomica come parte fondamentale il tartufo è uno dei prodotti da un punto di vista enogastronomico più conosciuti e apprezzati nel mondo quindi insomma una festa che è un modo importante per richiamare tutto il territorio Non è stato un anno semplicissimo ha fatto notare il sindaco di Montaione Paolo Pomponi era importante tornare a celebrare la festa più importante per la nostra comunità non è neppure un momento fortunato per la ricerca del tartufo ma la stagione del turismo enogastronomico è ripartita ci sono buone aspettative anche per la vacanza natalizia ha detto il sindaco Un anno non semplicissimo non solo per il tartufo mi permetto di dire ma per noi è importante ricelebrare questa festa che è la festa più importante per la nostra comunità che può avere proprio a mostra mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici del nostro territorio dopo appunto uno stop dovuto alla pandemia e poi purtroppo non è stata un'annata fortunata neanche per la ricerca del tartufo questo almeno per il momento però insomma comunque ricelebriamo un grande piacere questo evento il tartufo ci aiuta ci aiuta in quel settore turismo che è l'enogastronomia che poi è uno dei nostri settori principali turistici quindi è molto importante però devo dire che fortunatamente la stagione è ripartita e ci sono buone aspettative anche per le vacanze natalizie Pisa sul tetto d'Italia il Pisa Beach Soccer campione d'Italia è stato premiato dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo per il titolo conquistato Mazzeo che ha ricevuto la maglia celebrativa della squadra che ha conquistato lo scudetto nella finale contro Terracina a soli sette anni dalla fondazione ha consegnato al presidente della società pisana Alessandro Donati una targa dedicata del consiglio regionale Sono davvero orgoglioso di poter premiare il Pisa Beach Soccer campione d'Italia 2020-2021 che in soli sette anni è riuscito a vincere il campionato e ora andrà a portare in alto i colori di Pisa e della Toscana in tutta Europa ha detto Mazzeo Sono davvero orgoglioso di poter premiare il Pisa Beach Soccer campione d'Italia 2020-2021 è un'emozione avere qui il suo presidente Alessandro Donati e tante altre amiche ed amici che con impegno, passione e dedizione in solo sette anni, sottolineo solo sette anni perché la società è nata nel 2014 sono riusciti a vincere il campionato e ora andranno a portare in alto i colori di Pisa e della Toscana in tutta Europa è una storia bella, la storia di chi può farcela una storia da mandare e tramandare a tante persone abbiamo iniziato, hanno iniziato con i ragazzi del territorio poi pian piano sono riusciti a portare, a giocare da noi a Pisa tanti ragazzi anche da fuori Toscana e alla fine i migliori talenti di tutto il mondo è qualcosa di grande, di bello e per questo come Consiglio regionale abbiamo voluto dedicargli una targa, un riconoscimento per far battere le ali del Pegaso che vedete alle mie spalle perché questo è un punto d'inizio è l'inizio della possibilità di far crescere lo sport e in questo caso il beach soccer sul nostro territorio faremo di tutto anche come regione per cercare di supportarli per avere la tappa, una tappa del campionato italiano il prossimo anno anche sul nostro territorio ce la metteremo tutto e proveremo insieme all'amministrazione comunale a dare il nostro contributo A ricevere la targa Alessandro Donati, presidente del Pisa Beach Soccer Siamo veramente molto felici di questa occasione di questo premio riconoscimento datoci da Antonio Mazzeo e da tutto il Consiglio regionale La grossa soddisfazione è una società nata nel 2014 che riesce solo dopo pochi sette anni quindi relativamente pochi a vincere uno scudetto un campionato nazionale e la nostra grossa soddisfazione sarà il prossimo anno anche andare a rappresentare Pisa e tutto il nostro territorio anche a livello europeo con la Champions League del Beach Soccer e tutto il nostro territorio